Quanto tempo serve per togliersi della testa e dei coglioni un narcisista o una narcisista? Allora, questa è una domanda che fanno molte persone. Quanto tempo serve per levarsi dal cazzo un narcisista o una narcisista? Allora, in realtà potrebbe bastare un microsecondo, dipende da quello che scatta nella tua testa. Perché è certo che se tu stai a dire, Gni, 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 ma io lo amo, gni, 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 ma io lo amo, non te lo toglierai più dei coglioni. Quando capisci che una persona è un narcisista, devi far leva sul tuo amore proprio. In un secondo te lo togli dal cazzo, soprattutto dalla testa, perché quella è la cosa fondamentale. E poi ti capiteranno sicuramente delle persone migliori. Ti posso garantire che nel momento in cui tu te lo togli dalla testa, arriverà automaticamente nella tua vita una persona nuova, una persona che ti darà quello che quella non ti ha dato. Perché l'universo lo capisce. L'universo è intelligente, capisce che è seditore dei coglioni, la persona sbagliata, definitivamente, ma dalla tua testa, allora automaticamente arriverà la persona giusta, una persona che fa il caso a tu, una persona che ti darà amore, stima, considerazione. Perché i narcisisti e le narcisiste non valgono la pena, diciamo. Sono delle fogne, sono, come dire, i topi, delle tope di fogna e vanno rimandate nelle fogne. Non vanno prese in considerazione. Sono persone che valgono poco. Una narcisista, ad esempio, non merita neanche che tu ci vada a letto. Ci puoi andare a letto con un manganello, non lo so, con qualcosa di fisico, ma non col tuo. Insomma, è lo stesso discorso, vale per un narcisista, non devi dargliela. Sono persone che non meritano nulla, spregievoli, che devono stare ai margini da scettare, devono sguazzare, diciamo, con persone che sono loro simili. Non devi assolutamente dedicargli il minimo di energie e devi scattare nella tua testa l'amor proprio. Questa è l'unica cosa. Pensare che se te la togli dei coglioni, se se ne va, vai a accendere un cera alla Madonna e prega che non torni. O se torna, manda l'affanculo. Questo è quello che devi fare. Ci può bastare un secondo. Non è vero che per chiudere una relazione tossica ci va mesi, anni, tutto. Dipende da quello che scatta nella tua interiorità. Può scattare un insight nel giro di un secondo, tac, fuori dai coglioni, che è la cosa migliore. Questa è veramente la cosa migliore. Seguimi su Instagram, su Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, su YouTube e su tutti i miei canali YouTube, compreso il nuovissimo canale Esoterismo e Spiritualità con Massimo Tramasco. Nonché abbonati, malgaciona, abbonati a tutti i canali, che è possibile. Ciao a tutti e al prossimo.